Ciao a tutti guys Cosa stai facendo? Ciao a tutti guys e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qui con un video diversissimo dal solito ma troppo bello Siamo qui con una reaction ai cani troppo divertenti E quindi possiamo cominciare Ma c'è una cosa che mi sono scordata a dire Ovvero che c'è un ospite speciale Ovvero Noemi Forever Saluta! Si stava per dimenticare di me Saluta Ciao Saluta Ciao Saluta Ciao a tutti Grazie a tutti Brava Cominciamo Che è questo? Che è che sta andando in questione Sta fermo dentro Veramente Così In realtà mi sta andando veramente di starnutire Ora Che succede? Che succede? Che succede? Che succede? Sorridi cagnolino Che succede? Che succede? Che succede? Davide Visto cosa faceva Il cane nello scivolo Good morning direttamente ti immagini guida il cane cos'è questa cosa? sto facendo la cosa comunque i cani sono più divertenti dei gatti perché per chi non l'avesse visto andate a vedere sul mio canale il video che ho fatto sempre con Angie ed è sui gatti divertenti ok il suo canale non mi farei perché cosa stanno facendo no non ci credo ma che è? allora lo sono di pernotto non ci credo sì lo stanno facendo lo scappa scappa dai gatti sembra flash sembra il nuovo film the flash dog che vuoi? benissimo buongiorno lo sa voi da me non mi fa schiavi è subito e balla ma mi senti tutti i cani no che tu è caro tutti i cani balla Cane da guardia, la c'è la mia patria un altro, non l'immaginare Non ti credo come c'è la mia patria Non ti credo come c'è la mia patria Qualcosa che non ci vedo mai più Buongiorno Have you got any problems? Non ci credo E poi questo scommetto che non altro E quindi il video di today finisce qua Iscrivetevi al canale Angie e Marco E andate a vedere subito il video quello dei gatti divertentissimi Dove c'è scritto che vi dovete pure iscrivervi a questo canale Vi dovete iscrivervi al canale di Noemi Forever E quindi avendo detto tutto Commentate, mettete like, condividete, iscrivetevi e... Ciao! Ciao!